Il posto sul capo dei soggetti raffigurati ha contribuito a far scoprire il falsario che ha creato i 19 disegni attribuiti a Modigliani e sequestrati il mese scorso dalla Guardia di Finanza. Tra le opere false, anche la femme au chapeau attribuito a Modigliani e venduto per 40 milioni ad un imprenditore della Valdichiana. A rivelare l'origine è stata anche la graffia ed alcuni particolari difformi dall'originale. A scoprire la mano del falsario è stato Carlo Pepi, uno dei massimi esperti di Modigliani, al quale si è rivolto l'imprenditore troffato. Il capello sovraesposto è una mania ricorrente di un certo falsario, ha detto Pepi, senza tuttavia svelarne l'identità. In Italia, in Francia, ma anche in Svizzera, sta indagando la Guardia di Finanza di Livorno, che ha scoperto, grazie all'aiuto dei periti, il giro di falsi di Modigliani. Ha scoperto addirittura un'organizzazione, una vera e propria organizzazione, che metteva sul mercato, sul mercato dell'arte, falsi e Modigliani. Nel luglio dell'84, qui nel Fosso Reale di Livorno, tre giovani fecero ritrovare alcune teste in pietra da loro realizzate, ma attribuite a Modigliani. Uno scherzo goliardico che trasse in inganno i migliori esperti d'arte dell'epoca. Allora la beffa, oggi l'inganno. La Guardia di Finanza di Livorno ha infatti smantellato un'organizzazione di falsari, che stava per immettere sul mercato 115 opere d'arte, tutte rigorosamente fasulle. Tra queste, 19, ancora una volta, erano state attribuite ad Amedeo Modigliani. Evidentemente, dell'amore che i Livornesi hanno per Modigliani, un artista discusso, morto giovane dopo un'esistenza sopra le righe, qualcuno ne approfitta nel bene e nel male. Dopo il ritrovamento dell'84, anche nel 91 furono trovate sempre a Livorno, in uno scantinato, altre tre teste, sulla cui autenticità l'ultima parola aspetta alla magistratura, visto che è ancora in corso un processo. Misteri, quindi, gialli, che si intersecano tra loro e che hanno come denominatore comune non solo l'artista Modigliani, ma forse anche alcuni personaggi che in passato furono interpellati come esperti d'arte ed ora invece sono iscritti nel registro degli indagati come presunti truffatori. Niente di certo, solo ipotesi, tutte da verificare, dicono i finanzieri. Di fatto, la mole di opere false sequestrate avrebbe fruttato all'organizzazione composta da 16 persone, tutte denunciate, ma sulla cui identità c'è il massimo riservo, più di 8 miliardi di lire. Pensate, solo questa testa attribuita a Modigliani sarebbe stata venduta a poco meno di 500 milioni di lire. La banda era ben articolata su tre livelli. C'erano i disegnatori, con base operativa forse in Francia, i venditori e coloro che invece dovevano rendere credibile l'opera falsificata. Attraverso la introduzione in cataloghi, in riviste specializzate e anche in mostre sotto il patrocinio di enti importanti. La banda che risale a diversi anni fa, oggi, sempre a Livorno, è stata smascherata una organizzazione che produceva e smerciava false opere del grande artista. Grande modi, la beffa continua. Tutto cominciò 15 anni fa nei fossi della sua Livorno, da dove saltarono fuori le teste scolpite di Amedeo Modigliani. Una burla che fece saltare le teste vere di sovrintendenti. Oggi la Guardia di Finanza Livornese scopre una vera e propria organizzazione, ramificata anche in Francia e Svizzera, che falsifica l'artista maledetto, e non solo lui, e sequestra in tutta Italia un centinaio di opere, anche di Guttuso, Picasso, De Chirico, e viene in canto per un valore sul mercato di più di 8 miliardi. Ma tutto parte e tutto si concentra su un modi, un suo disegno, donna con cappello, comprato per 40 milioni. Falso, però. Denunciati 16 tra galleristi, mercanti d'arte ed esperti, autorevoli critici comunque coinvolti nell'inchiesta. La finanza non dice nomi, ma fa capire che tutti questi conoscitori del maestro, e non sono poi molti, compreso anche chi ha dato alti patrocini a mostre, potrebbero essere emossi non solo dall'amore per l'arte, ma più dalla voglia di manovrare un mercato miliardario con un prestigio di credibilità tutta da verificare.